Potenziare i sistemi di video sorveglianza e creare dei team con un responsabile della sicurezza sono le indicazioni emerse dal tavolo di confronto tra il prefetto della BAT e le associazioni di categoria per arginare gli episodi di violenza nei luoghi della Movida. Giussiutano. Il prefetto della BAT, le istituzioni, le forze di polizia e le associazioni di categoria allo stesso tavolo al fine di responsabilizzare i gestori di discoteche e luoghi di aggregazione. A questi ultimi si è chiesto il potenziamento dei sistemi di video sorveglianza e l'aumento dei controlli. Attraverso la strutturazione anche di un team di steward e di un responsabile della sicurezza che sarà il diretto referente delle forze di polizia. C'è anche la possibilità di vietare l'accesso alle persone che sono ritenute sostanzialmente turbolente. L'omicidio di Claudio a Barletta e l'aggressione di Alessio in discoteca Bisceglie hanno destabilizzato l'intera comunità. In entrambi i casi la tempestiva risposta delle forze dell'ordine è stata immediata. I presunti autori sono stati assicurati alla giustizia, ma il problema resta. Tutto questo si va a sommare alla paura del ritorno dei sequestri Lampo. Due episodi in pochi giorni. Il primo nella zona tra Andrea e Barletta, un'arma da fuoco puntata alla nuca di un giovane e la richiesta di riscatto alla famiglia. Il secondo vicino Bisceglie quando un noto imprenditore è riuscito a scappare dopo che un furgone sospetto si era affiancato alla sua auto. E qui resta il dubbio, tentativo di rapina o di sequestro? Entrambe le vittime sono di Andrea, impegnate nel settore industriale e molto conosciute in città. Bocche cucite da chi indaga. Un fenomeno che sembrava scomparso ma che forse a causa della crisi la criminalità organizzata ha rimesso in piedi per fare liquidità. L'allarme sulla sottovalutazione delle mafie di questa zona era stato lanciato qualche mese fa dal procuratore di Trani Nitti e della questione aveva parlato anche il capo dell'antimafia de Rao.